E' nobile, tanto non parla. Francesca, te l'ho detto, non lo so che gli è successo. Ma invece lo dovresti sapere perché Luca sta così da quando è uscito da casa tua. Ma non ti è venuto in mente che Luca sta così magari perché è stato costretto a cambiare tutte le sue abitudini? Cominciamo, dai. Senti, Francesca, che ognuno si prende le sue responsabilità, scegli. Ho già scelto. E infatti, Luca sta male proprio per le tue scelte. Non ce ne ho più Claudio, nostro figlio sta male. Tu pensi soltanto a litigare. Guardate lo specchio. Isabella Ferrari in Cuore contro cuore. Con la partecipazione di Ennio Fantastichini. Venerdì alle 21 su Canale 5. Che sarà, sarà. Whatever will be, will be. The future's not ours, see. Che sarà, sarà. Imbattibile sotto costo Carrefour. E in più, solo domani, tutari da scollezione 2004 al prezzo record di 40 euro. Solo domani, da Carrefour. La mamma della signorina Marta è pregata di recarsi alla Cassa 2. Da oggi, se cerchi la mamma... A me mi piaci così... La trovi al banco frigo. Dove ti ha fatto mamma? Viva la mamma, piatti pronti verità. La freschezza arriva in fretta. Bioscalin con Biogenina. Caduta dei capelli, meno 75,7%. Diametro del fusto, più 57,8%. Capelli in crescita, più 20,2%. Dalla ricerca farmaceutica Giuliani. Bioscalin con Biogenina. Più valore ai capelli. Ci sono dei periodi in cui mi sento veramente stanco. Stanchezza mentale e fisica? Acutil, multivitaminico. Fosforo per la mente, vitamine e minerali per il corpo. Mi aiuta a ritrovare concentrazione e voglia di fare. Io voglio vivere la vita al 100%. Acutil multivitaminico. Aiuta la mente, aiuta il corpo. Da oggi anche Junior. Specifico per i bambini. Green Vision, davanti ai tuoi occhi. Per te ci vogliono super resistenti. Safilo, ha la montatura giusta. Eccoli. Guarda bene, c'è sempre un ottico Green Vision vicino a te. Ringo Gold. Cioccolato al latte. Crema e biscotto. La barretta di Ringo entra in campo. Sei pronto a intercettarla? Ringo Gold. La barretta di Ringo. Borotalco. Alto là al solito bagno. Entra in Borotalco bagno schiuma. Cremoso da impazzire. Profumoso da stupire. Un vero party per il corpo. Alto là al solito bagno. E chissà di Borotalco. Si riconosce a pelle. Sappiamo amare. Sappiamo piangere. Sappiamo rialzarci. Sappiamo... Sappiamo lottare. Noi donne abbiamo sempre la forza di voltare pagina. Voci di donne. Storie vere di donne di oggi. In edicola da Fabri Editori. Il primo libro con Anna. Soli 2,50 euro. I libri che parlano di noi. Se c'è una cosa proprio bella è sfidarci tutti in cucina. La mamma. Il papà. Simone. E pure io. E non importa chi vince. Tanto ci mangiamo sempre tutto. Suttiletti Craft. Dai forma alla tua fantasia. E tu? Sei sicuro di avere gli strumenti giusti? Con RAS trovi gli strumenti ideali per costruire le tue certezze. RAS. Costruttori di certezze. Filippo. Mia mamma. La cameretta. La cameretta. I capelli. I capelli. L'animale di casa. L'animale di casa. E la merenda. La merenda. Con tanto latte. Con tanto cacao. Vista da lei e vista da lui la merenda è Kinder Delice. L'equilibrio giusto tra nutrimento e gusto. Anche in Kinder Delice trovi i Roteo. Il gioco dell'anno. Quando un uomo ti guarda così tu non abbassare lo sguardo. Anzi, lancia la tua sfida. Non importa se è una cosa da uomini l'importante è farlo con stile. Lasciati prendere dallo spirito della nuova Micra Jive Il lato fashion di Micra New Micra Jive Pur fun Sabato e domenica dai concessionari Nissan Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know once we were standing still in time? Chasing the fantasies And filled our minds You knew how I loved you But my spirit was free Loving out the questions That he wants us to play Maria Arriva a casa tua la bottiglia extra large infrangibile Attrazione Blu By Derby Blu Grazie a tutti